Musica E siamo nel centro sportivo di Gressano, un vero gioiello di impiantistica e per il tempo libero. Ma ci troviamo qui, lo sapete, in occasione del 52esimo Gio ciclistico internazionale della Valle d'Aosta. Una corsa, una tappa, quella di oggi, la terza per l'esattezza, che parte da Gressan e arriverà a Valtournansch, a Breuil, Cervigna. Nello stesso luogo dove si è conclusa l'anno scorso una tappa e dove anche nel corso del 2015 si è svolta una grande manifestazione ciclistica. Stiamo parlando del Giro d'Italia, una tappa come sempre particolarmente severa, con tre colli, pensate, di prima categoria. E naturalmente anche oggi ci sarà da divertirsi. Nel frattempo, ospite d'onore a questa partenza, un altro grande dello sci italiano. Così come ieri erano presenti due ragazze, oggi c'è Albarello, che ricordiamo, campione olimpico all'Iliammer. Marco, Giro della Valle d'Aosta, che è comunque un evento, e credo che sia tra gli eventi più importanti, che il territorio valdostano ha avuto il piacere di ospitare per ben 52 edizioni. Intanto un ringraziamento mio particolare al vostro invito. Sì, chiaramente è un avvenimento importantissimo e soprattutto un palcoscenico per avvenimenti ancora più importanti, come possono essere il Tour e come abbiamo visto quest'anno anche il Giro d'Italia. Chiaramente la Valle d'Aosta si presta a questo tipo di competizioni e siamo a disposizione per tutto quello che può essere avvenimenti di questo tipo e soprattutto con la volontà che ci colperà il singolo e sempre. Michel Martinet, primo cittadino di Gressan, località che ospita oggi le operazioni di partenza nel suo spendido in pianto sportivo di questa manifestazione, che è un po' il fiore e l'occhiello dell'attività sportiva di questa regione. E voi oggi, questo fiore, ve lo siete messi sulla giacca? Certo, sì, per noi è un orgoglio poter dare lustro a questa manifestazione sportiva che effettivamente per la Valle d'Aosta è una delle più importanti. Il mio comune è un comune che come manifestazione sportiva ne fa parecchie in inverno con la stazione di Pila, e in estate ci stiamo attrezzando e quindi con la partenza di una tappa del Giro della Valle d'Aosta diamo lustro appunto a questa manifestazione. E magari perché no, un giorno anche una conclusione. Una conclusione, sì, ci stiamo pensando, stiamo pensando a un arrivo a Pila che non sarebbe male anche come entourage, come ambiente, come panorama e quindi cerchiamo di fare degli sforzi, in questo momento è un po' difficile però cerchiamo di attrezzarci per il futuro, sì, senz'altro. Insomma, una Valle d'Aosta sempre più unita attorno a quelle manifestazioni che non sono le classiche della Valle d'Aosta ma che danno interesse anche in momenti, diciamo, morti dell'attività sportiva. Sì, sì, noi, dicevo che Gressan, proprio questa zona sportiva, è diventata famosa per il trofeo Topolino Calcio. Adesso cerchiamo di riempire gli spazi vuoti con altre manifestazioni come questa che sono di livello internazionale, quindi contribuiscono a dare l'immagine digressante della Valle d'Aosta in tutto il mondo. Un nostro vecchio amico, ormai abbiamo tutti e due i capelli bianchi, Flavio Zappi, professionista, atleta importante, atleta italiano, di tradate e che adesso invece è colui che movimenta un pochettino il ciclismo di alto livello per quanto riguarda il movimento dilettantistico in Inghilterra. Zappis, qui presente con tutta questa squadra di giovani talenti che tu stai scoprendo con la tua esperienza proprio in Inghilterra. Sì, è iniziata un po' per scherzo, 4-5 anni fa ho messo su un club in Inghilterra, Oxford, con un gruppo di amici e poi piano piano nel giro di 6 mesi ne avevamo 70 di amici, poi diventati, adesso ne abbiamo 300. Di questi 300 abbiamo 50 bambini, da 9 anni fino agli anni 23 e ci specializziamo a stimolare la passione per le corse, per gareggiare. L'anno scorso, come sai, Dan Pearson ha fatto una bella stagione, quest'anno la Zalp e lì tra i primi, il prossimo anno sarà quel ragazzo lì, James Knox, che io lo considero il mio nuovo Dan Pearson per l'anno prossimo. Il tappa difficile doveva essere, il tappa difficile è stata questa, terza giornata di gara in linea con l'arrivo a Cervigna, una corsa lunga ma soprattutto particolarmente faticosa che ha visto impegnati i corridori in una colla di terza, questo subito dopo il via, il colla d'intro scalato dal lato opposto rispetto a ieri e poi tre colli di prima categoria. E che colli, una gara interminabile che ha visto una grande atleta mettersi in evidenza, l'italiano Ciccone che ha scatenato la battaglia al quale appunto hanno risposto altri atleti, tra cui uno in maglia della Nazionale Russa. Va detto che lui corre per una squadra quindi che rappresenta il vivaio del ciclismo russo e questo ragazzo negli ultimi 27 km di salita, ho detto 27, da Châtillon qui a Cervigna ha veramente scatenato tutta la sua potenza, non ha mai fatto un cenno di fatica, anzi ci sorrideva ogni volta che ci avvicinevamo. Voleva solo essere informato, ha trovato, pensate, quando ha cominciato anche a piovere, a fare freddo e si trovava solo perché Ciccone si è staccato, bene, ha avuto anche il tempo, ha voluto fare gli auguri in diretta a sua sorella, che oggi compie gli anni. Masha, svegliamo, mia sorella, felicità! Una corsa, come abbiamo detto, difficile, dove è stato anche protagonista un altro corridore italiano, Rota, ma che poi proprio nel finale non ce la faceva. Al termine della corsa, vittoria di questo russo, Matvei Mamikin, è una vittoria che vale doppio, si porta a casa anche la maglia gialla di Lider. Stendiamo un velo sulla nazionale australiana che non, credetemi, non riusciamo a capire. Non si può concedere dieci minuti a atleti che attaccano e poi continuare all'inseguimento e dover arrivare qui con l'acqua alla gola. Meno bene, finisce. Very hard day, very hard. Simone, oggi ancora una corsa dura? Sì, oggi è stata probabilmente la tappa più dura di tutto il giro, perché c'erano molte salite. Purtroppo nel finale abbiamo imposto un buon ritmo, ma il leader della classifica Power non ha ceduto. Abbiamo ancora due giorni, vediamo di combinare qualcosa di buono. Oggi è una tappa devastante, a dir poco. Mai sofferto così tanto in vita mia. Ho provato a tenere duro, ma far tutto il giorno in fuga di una gara così, già dopo diverse fatiche non è facile. Il russo andava veramente forte. Ho provato a tenere duro e poi gestirmi sul finale, ma diciamo che va bene così. Sono veramente devastato. Complimenti soprattutto per questa dichiarazione. Grazie, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. e voglio dire che tutto va bene, andiamo avanti. Albarello, beh, non è la prima volta che segui le gare ciclistiche, sei un abitante di Courmayeur, sei soprattutto un ex campione olimpico, o sei sempre, per sempre, campione olimpice all'Ilihammer, Courmayeur, Cervigna, due fiori all'occhiello di tutta la Val d'Aosta, e anche di questa corsa. Ma sicuramente, abbiamo il Cervigna alle nostre spalle, ed è quello che praticamente dà il nome alla località, ma soprattutto dà il nome allo sci estivo, e tutto quello che è l'estivo e l'invernale. Però con questa tappa del giro della Val d'Aosta ha arricchito ancora di più il suo palmarès. Courmayeur non è da meno, perché ha il Monte Bianco, è la montagna più alta d'Europa, perciò abbiamo tante cose in comune, come Val d'Aosta, e molti posti da visitare, da essere contenti di viverci. E sei stato contento di assistere a questa gara? Impressionanti questi ragazzi su questa strada? Sono stato contentissimo, perché soprattutto impressionato, dopo il Colzucore, venire in giù, in mille metri, mille metri l'hanno fatto in nove minuti e mezzo. E poi sono stato impressionato dal russo quanto ha aumentato il ritmo ed è arrivato qua a Cervinia prendendosi la maglia gialla. Per quanto riguarda le maglie di classifica, variata quella del Gran Premio della Montagna, che viene indossata da Ciccone, cambia la maglia gialla, ovviamente, che va sulle spalle del russo, invariate le altre due. Massimo Chatriang, speriamo di aver detto il nome giusto, una certezza, al di là della mia pronuncia, è che è il signore che ci sta davanti, è colui che coordina, possiamo dire, è il presidente del comitato di tappa, ma Cervinia non ha aspettato solo l'arrivo del Giro della Val d'Aosta, ma anche il Giro d'Italia. Quindi Cervinia, sempre più capitale del cicchismo. Cervinia si propone sempre più capitale del ciclismo, siamo partiti nel 2012 con l'arrivo a Cervinia, abbiamo proseguito nel 2015, stiamo già andando avanti. Nel 2017 ci riproporremo nuovamente come località di tappa per i cent'anni del Giro d'Italia. E a proposito dei festeggiamenti, voi state festeggiando il 150esimo anniversario della prima scalata del Cervino, insomma, tutto il mondo sportivo, che sia ciclistico, amanti della neve, o delle arrampicate, qui oggi a Cervinia, possono sicuramente trovare un momento di festa. Sì, è un momento veramente di festa e di gioia, il mese di luglio è un mese di grandi festeggiamenti, e poi soprattutto oggi, 17 luglio, 150 anni fa c'era la prima ascesa del Cervino. Quindi credo che chi ha vinto oggi resterà nella storia come resterà nella storia questa tappa del Giro della Valle d'Aosta. Ora la parola aspetta le ultime due giornate di gara, ma soprattutto all'ultima, con la scalata alla Gran San Bernardo, una salita per uomini duri. ci sarà da divertirsi.